Salve a tutti! Questa è la seconda puntata di Curiosità Viventi, la rubrica dove vi parlo di animali strani, di strani comportamenti, curiosità e usanze in cui gli animali e la natura sono i protagonisti. Andiamo subito al dunque. Oggi vi parlo di uno strano predatore, il pesce arciere. Le sue armi non sono né arco e né frecce, ma è armato solo di acqua. Il nome pesce arciere deriva dalla capacità che hanno questi pesci di emettere dalla bocca un violento oggetto d'acqua, che va a colpire gli insetti che sostano inconsapevolmente su rami o foglie vicino alla superficie dell'acqua. Questi pesci appartengono alla famiglia Toxoidee, che comprende le sette specie distinte. Il nome scientifico della famiglia deriva dalla parola greca Toxoteste, che significa arciere, nome dovuto alla particolare tecnica di caccia che hanno questi pesci. Questi pesci vivono nelle acque salmassere degli estuari di alcuni fiumi dell'Asia e dell'Australia. Per cacciare il pesce arciere mette dalla bocca un violento oggetto d'acqua, che può raggiungere anche il metro e mezzo di altezza, e va a colpire gli sproveduti insetti che si trovano sulle foglie degli alberi vicino alla superficie dell'acqua. Il getto d'acqua ha una potenza tale da assordire l'insetto e farlo cadere in acqua, in modo tale che il pesce lo mangio. Il pesce arciere, in sostanza, utilizza le leggi della fluidodinamica per ottenere una specie di proiettile liquido, la cui dimensione cresce nel tragitto verso la preda, e va a seconda delle dimensioni di quest'ultimo. Il pesce arciere rappresenta uno notevole esempio di animale che fa uso di un utensile esterno altamente sofisticato, in questo caso una leva idrodinamica, per amplificare la sua potenza muscolare in maniera simile come fa un arciere con il suo arco. Sono pesci molto voraci, con carattere predatorio, che si nutrono esclusivamente di cibo vivo o comunque fresco. Questo pesciolino, dall'aspetto innocuo, oltre ad essere un feroce predatore, è anche molto territoriale, infatti gladisce la compagnia dei suoi simili solo da bevi. Infatti i piccoli pesci arcieri si riuniscono in banchi anche abbastanza forti. Ma l'idilio dura poco, quando diventano adulti, i guai a chi si avvicina troppo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, se volete andate a cliccare ai mi piace sulla pagina Facebook di Entomologando e visitate il blog. Trovate tutti i link in descrizione. Un saluto da Ludovico Catalli, alla prossima!